Ma ci sono prove e contro in queste cose, forse la Reggiana è una squadra che ha più qualità, però a Tritium io li ho visti ultimamente e mi sono sembrati una squadra in salute comunque, e una squadra che è parecchio tempo che sta lì e aspetta. Adesso non so come siano i risultati sotto. Il Treviso ha vinto. Anche lì non ha la sicurezza neanche loro. Io penso al quattro ultimo posto come vantaggi per avere il doppio pareggio e la seconda in casa, al resto l'avversario lo guarderemo.